Musica Di nuovo assieme ad ore 7, è arrivato il momento dell'ospite, parliamo di atletica, in particolare dall'SD Atletica 2000 assieme al direttore sportivo Matteo Tonutti, buongiorno. Buongiorno. Tante le iniziative in partenza, ma partiamo dall'associazione nata nel 1995, conta 400 soci a sede a Codroipo, però opera in diversi comuni. Sì, allora, l'associazione lavora su diversi livelli, appunto abbiamo una sede a Codroipo, ma operiamo in circa 6-7 comuni, dicevi bene, con 400 soci che sono suddivisi, diciamo, per fasce d'età e per attività, dai corsi di psicomotricità ai corsi di attività motoria alla via l'atletica leggera. Nonché abbiamo, iniziamo con l'atletica vera e propria nella fascia delle scuole medie e poi continuiamo. Abbiamo un bel gruppo, quasi un centinaio di atleti master e infine facciamo diversi corsi durante l'anno di ginnastica posturale, di ginnastica per adulti. Abbiamo parecchi progetti all'interno delle scuole e poi abbiamo da qualche anno, stiamo sviluppando anche l'aspetto dell'atletica paralimpica con buoni risultati, visto che agli ultimi campionati abbiamo fatto 5 podi italiani, un titolo e 5 argenti. Sì, possiamo dire che siete il punto di riferimento per la federazione paralimpica, FISPES in regione, affiliata alla FIDAL e al CSI, che ora appunto costantemente con la scuola. Allora, fondamentalmente siamo affiliati alla federazione di atletica leggera e quindi, visto anche il mio ruolo di delegato tecnico della federazione paralimpica, abbiamo unito questi due aspetti e il nostro obiettivo è appunto integrare lo sport per normodotati con lo sport per paralimpici, cercando, dove è possibile, di allenare insieme le varie tipologie, proprio per non ghettizzare le persone. Ci stiamo un po' alla volta riuscendo, non è facile, ci vogliono tante risorse, ma soprattutto persone disponibili, capaci e intelligenti. Non è così automatico trovare questo mix. E comunque un po' alla volta, sia da un punto di vista così organizzativo che integrativo, ma anche di risultati agonistici e amatoriali, ci stiamo un po' alla volta riuscendo. Gli eventi, partiamo dalla mostra Donna Atletica, che è il programma il 15 giugno dell'inaugurazione. Sì, allora, diciamo che utilizziamo questa mostra come link a tutti gli eventi che organizzeremo, perché sarà presente questa mostra realizzata grazie alle fotografie del Circolo Fotografico Codroipese e al lavoro della terza A del liceo scientifico Linusio di Codroipo. Questa mostra ha come obiettivo di mettere in luce come lo sport può fare elevare determinati valori e come lo sport è riuscito, come la donna attraverso lo sport è riuscita ad emergere negli ultimi decenni. Pensiamo che nel dopoguerra l'attività sportiva femminile non era così forte presente ed è una delle modalità attraverso le quali la donna si è messa in luce. C'è ancora tanta strada da fare e noi abbiamo voluto omaggiare questo aspetto qua con questa mostra. Sono 15 scatti molto particolari. Sarà itinerante questa mostra? La mostra sarà itinerante nei nostri eventi e da settembre in sei istituti scolastici. C'è anche uno scritto di Sara Simeone che ci ha regalato e vorremmo anche invitarla. Come dicevo il 15 giugno avrà inaugurata questa mostra all'interno dei campionati europei per trapiantati la parte riguardante l'atletica leggera che sono partiti martedì a Lignano ma come associazione in collaborazione con l'ACTIC, l'associazione dei trapiantati di cuore e polmone organizziamo come dicevo la parte di atletica leggera e vi aspettiamo quindi venerdì dalle 9 e mezza al Polisportivo Comunale di Codrolpo. Poi è un calendario davvero ricco. Il 23 giugno 5 miglia di Villa Manin, il 30 giugno mezzo fondo party. Insomma davvero tantissime le iniziative. Certo, abbiamo cercato di concentrare tutto a giugno, infatti sarà un mese di fuoco. e al Calar della Sera in Villa Manin di Passariano organizziamo la seconda edizione delle 5 miglia di Villa Manin. Praticamente il percorso si snoda attorno alla Villa Manin con una gara maschile e femminile e anche lì cercheremo di fare una gara che è anche una celebrazione di questo luogo che è molto interessante soprattutto la sera con le torce lungo il percorso. E poi passiamo ai due meeting nazionali di atletica leggera. Anche in questi saranno presenti sia atleti normodotati che paralimpici che gareggeranno assieme. E il 30 giugno dedichiamo la manifestazione al mezzofondo, quindi solo gare di mezzofondo sempre in pista a Codrolpo, pista di atletica. E il 30 giugno invece il dodicesimo meeting nazionale che è la parte storica delle nostre attività che vedrà una serie di atleti di livello nazionale e internazionale nelle corse, i salti e i lanci. Però ci sono anche eventi collaterali. Allora noi diciamo come associazione cerchiamo di creare cultura, come dicevamo, integrazione e proponiamo anche delle attività differenti. A maggio abbiamo organizzato la manifestazione in biblioteca di corsa, ovvero sul prato della biblioteca abbiamo gestito una sorta di piccoli giochi olimpici con un'ottantina di bambini. Poi dopo la merenda olimpica ci siamo dedicati a quelle che sono le letture olimpiche e quindi abbiamo cercato di integrare sport, cultura e socializzazione. E così faremo anche il venerdì 6 luglio presso Corte Bazan a Goricizia di Codroipo. Organizzeremo prima una pericena e poi il cinema all'aperto con la visione del film L'atleta Abebe Bichila che ha una storia molto particolare. Non solo ha vinto nel 1960 e nel 64 le Olimpiadi come maratoneta, ma è stato anche un atleta parolimpico perché ha subito un grave infortunio, è rimasto a 36 anni in serie a rotelle e ha partecipato, se non sbaglio, in Svezia alle Paralimpiadi del 72. E quindi anche lì sono storie di vita e lo sport permette di parlare, di far crescere le persone e di mettersi in confronto quotidianamente con delle problematiche che vanno superate. Quindi come dico spesso, lo sport può essere un moltiplicatore di integrazione a vari livelli e quindi sia personali che più allargati a più persone. Quali sono le vostre aspettative e come il territorio in questo caso di Codroipo risponde a tutti questi eventi, insomma se vi è vicino? Allora direi di sì perché come dicevo prima cerchiamo di coltivare gli aspetti, le relazioni soprattutto con le scuole, quindi citavo prima sei istituti scolastici, abbiamo un progetto che verrà poi riproposto il prossimo anno di formazione all'interno delle scuole e anche qua si parla di formazione a vari livelli. L'ultimo progetto che si è concluso poco tempo fa si chiamava Come noi 2 e aveva l'obiettivo di mettere in luce quella che è la parte della corporeità utilizzando varie metodologie che siano quelle legate allo sport, che siano quelle legate al teatro, alla musica e con l'obiettivo di socializzare, di far crescere nei ragazzi l'autostima di se stessi, è molto importante e di andare anche a creare, collaborare e quindi organizzare, per esempio il corso sulla gestione dell'evento si è incentrato sulla mostra delle donne atletiche e quindi poco alla volta si vanno a creare anche, spero, coloro che in futuro ci sostituiranno e magari negli asparte di atleti eccetera, ma sono molto importanti anche i dirigenti, i tecnici, gli allenatori e quindi l'integrazione è anche in questo senso, si va a creare un po' alla volta quelli che sono i presupposti per una società civile che riesca a collaborare e ad essere presente Credo che sia importantissimo come prima cosa lavorare nelle scuole e poi da lì partire dare il via insomma a tutte le vostre iniziative, a tutto ciò che fate e avvicinare i giovani all'atletica, questo è importante. Complimenti in bocca al lupo, si dice così, in bocca al lupo per tutti i vostri eventi, sono davvero ricchissimi, è un programma ricco Viva il lupo allora si dice, ultimamente Avete anche una pagina, Facebook, un sito internet per chi volesse essere aggiornato Sì esatto, siamo presenti anche volendo su Instagram, abbiamo un blog che è molto partecipato e questo grazie anche a alcuni ragazzi delle superiori che mi danno una mano e per questo appunto cerchiamo di essere più, come si dice, smart possibili per raggiungere la mamma col bambino di 3 anni come la signora di 80 anni che deve fare la ginnastica per star bene, come chi vuole invece specializzarsi in un'attività un po' più agonistica Grazie Matteo Tonuti, direttore sportivo dell'Atletica 2000 di Codroi poi bocca al lupo e buon lavoro Grazie a voi Buona giornata Ci vediamo tra poco dopo la pubblicità con un altro ospite in studio d'ora 7 Grazie a tutti